Anche i fuochi d'artificio E' il trick master ragazzi Trick master ovviamente nel mondo Nel mondo di Alice con le carte Spazio al trick master Lui subisce il fuoco se non sbaglio Abbastanza si Allora ragazzi Una battaglia semplice per nulla Per nulla proprio Perché non è semplice Non è semplice da andare a colpire Quindi Faremo un po' di difficoltà Ogaglia E' un altro problema Fa un danno della madonna Occhio ora No Vedete ragazzi vedete Vedete il danno che fa ragazzi Papero 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 Ecco vedete perché dovevo mettere le pozioni Vedete perché sarà fondamentale E' stato colpito Dai Colpito si Ora da forza colpito Forza ragazzi Forza ragazzi Forza ragazzi Si riprende subito Incredibile Occhio 4 punti di punti Occhio Stiamo andando bene Stiamo andando bene Stiamo andando bene Mi ripeto ragazzi Non è semplice Come battaglia Riesco a No mi ghiaccio da quando lo prende Sarei qua sopra Sarei sul tavolo Bravissima Riesco Eh no no Non ce la faccio Che l'ho preso Bene bene No Pensavo di sì Ora Ok devo beccare Un momento per dargli anche Un singolo colpo Attenzione Ragazzi concentrati Dai che dovrebbero andare giù tra poco Forza ora Daglia dolore Papero 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 No 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 Perché il papero Non mi ha curato Perché il papero Non mi ha curato Credibile Riproviamoci Perché il papero Non mi ha curato Ci credo Vabbè Si può saltare No Paperino però Cioè Con tutto il bene Mamma mia Cioè aveva Perché non mi ha curato Scusatemi Paperino Magia Standard Di difesa Cioè Utilizzo Certi recupero PV Ma dovevo Utilizzarmi La magia Con solo dei punti Magia Frequente Cioè Boh Magia standard Certi PV Critico Da utilizzare Su se stessi Vabbè Ragazzi Che vi devo dire Purtroppo Non siamo ancora in grado Di difenderci Completamente Da soli Quindi Bisogna un po' Soffrire Ragazzi Trickmaster Non è semplice Da affrontare Non è semplice Da affrontare Quindi ci sta Non è Non è una vergogna Perdere col trickmaster Lo è perdere In questo modo Per me Perché lo è Perdere in questo modo Per me Tutto è bene Perché era 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 Fatta Signore Era fatta Se il papero Mi avesse curato Carissimo Carissimo Paperino Paperino Del mio cuoricino Se solo Mi avesse dato La possibilità Io stupido Che Visto che Quella pozione Mi stava Quella Cosa di fiamma Mi stava rincorrendo Dovevo utilizzare La pozione E provare a salvarmi Ok subire il colpo Però almeno Non sarei Cioè Non sarei morto Comunque ragazzi Come vedete Il trucco migliore È colpirlo Colpirlo Ok È andato giù Ok Ok Beh danni Ok Dai che Non è una cavolata Cioè Non è una cavolata Ok Ma Non è neanche Una cosa impossibile Sto boss Si è affrontato Correttamente Ricordiamoci che siamo A livello massimo Siamo Comunque La difficoltà Ce la facciamo? Siamo A difficoltà massima Questa è la scusa Che vi do sempre In questi casi Ah Di dolore Ma stavolta Non mi freghe Ok Ce la fate a colpirlo Bravissimi Bravissimi Cattivi Cattivi Aggressive 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 Dai che è quasi giù Dai che è quasi giù Ok Dai che ci siamo Bravissimo Bravissimo Sarà solo Pippo Però va bene lo stesso Ragazzi Ok Ok Sconfitto Trickmaster Come vi avevo detto Non era Impossibile Gravissimi What a racket How's a doorknob to get any sleep? Cosa è stato? Hai sentito? Era come se ci fosse, se si fosse chiuso qualcosa. Ok, la prima serratura che chiudiamo. Perché se abbiamo chiuso la serratura. Questo gumbi non è come gli altri. No signore. D'accordo, lo tengo io. Pezzo 9 gumbi. Ora? Veramente notevole. Siete proprio degli eroi. Se cercate Alice, non è qui. Se ne è andata. Via con le ombre. Nell'oscurità. No. Torniamo sulla gumbi ship. Forse la troveremo in un altro mondo. Raggiungiamo un cerchio di energia per tornare sulla gumbi ship. Ok, direttamente. Però aspettate un attimo, ragazzi. Allora. Torniamo indietro. Perché non è finito su questo mondo. Allora. Eh, io ho queste cose qua. Come le faccio? Non posso ancora farle. Non posso ancora farle. Vediamo, ragazzi. Proviamo a bere. Perché se non ricordo male. Qualcosina si potrebbe anche fare. Ok. Nulla di nuovo. No. No. Ok, allora. Guarda un attimo. Scusate. PMS è molto importante. Pippo Frantuma è simile. Una maglia Pippo Frantuma, secondo me. Assimile poi. Terremo. Non vi preoccupate. Allora. Tornati qui. E facciamoci giro di qua. Non manco c'è da combattere. Ok. Allora. Bosco di Loto. Cioè, comunque. Giardino del Tè. Però, ragazzi. Qua ci sono due salite. No. Di là comunque arrivo dall'altra parte. No. Io dal... Comunque su qualcosa non ci posso ancora arrivare. Ok. La strada più grande di Kingdom Hearts. Salire su sti cosi. No. Io lì... Non ci posso arrivare. No. Là ci posso arrivare. E... Di qua... Che non posso. Vediamo. No. Qua ci posso. Eh, ragazzi. Ma prima non era così. Prima non era così. Qua cambia tutto. Questo è molto importante. Allora. Due Torche. Uno... Bene. Uno scrigno. Che spona qui davanti a noi. Vai. Eh eh. Difesa plus. Molto importante. L'altra Torche. Tra l'altro qua... È abbastanza bizzarra, infatti. Eh... Tra l'altro... Eh... Aspettate. Un'altra Torche. Si illumina. Importante. Poi, allora... Eh, qua non posso saltare ancora. Ancora che non ci arrivo. Non posso arrivarci. Ok. Allora. Lì si va da una parte. L'orsacchiotto qua non lo posso ancora spostare. Un attimo qui. Dove cadiamo? Ok. Sempre nella stanza bizzarra... Modificata. Aspettate. Di qua. Che c'è qua? Che c'è qua? Allora, posso stavolta... Sì. Ok. Tra l'altro, ehm... Non appaiono Arteles in questo momento. Molto bene. Mettiamo l'acqua. Perfetto. Cosa succede adesso? Regine di cuori. Dove si arriva qui? Qua. Molto bene. Meteo Gumi. Bravissimi. Però aspettate un attimo. Torniamo di là. Ok. Dai, ora che non spawnano. Rifacciamo il percorso di prima. Allora, vado qui. Vado qui. Forse prima non si poteva fare o forse... Me lo so perso, ragazzi. È così simile questo posto. È facilissimo confondersi. Allora. Qua non si può fare nulla. Dite. Qua si può andare. Posco di lotto. Esamina. Ok. È un trio bianco che ancora non posso utilizzare. Questi che vogliono pozione. Grazie a te. Gran pozione. Tu. Elisir. Addirittura. Ma a questo punto. Ilisir. 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 Eh. Qua non posso salire. Aspettate. Qua si torna appunto di prima. Giusto? Sì. Semplicemente. Ok. È... Bisogna del gran salto. Bisogna del gran salto. Assolutamente. Ora. Qua ho fatto quello che andava fatto. Qua dove si cade il bosco di lotto. Ok. Aspettate. Ok. Qua c'è uno scrigno qualcosa? No. Qua? No. Qua ho fatto quello che dovevo fare. Vuota. Qua. Ormai non si muove più. Qua dove si va? La regina di guri là sopra abbiamo visto. Ok. Qua si sale. Di qua che c'è? Ah. Ok. Vedete? Sempre cose nuove. Questo si è alzato. Molto bene. Di qua dove si cade? Bosco di lotto. Ok. Sono due cadute. Allora. Qua a sinistra. Cosa c'è qua a sinistra? Ebbè. Qua però ci sono stato. Vediamo se adesso è cambiata qualcosa. Stanza bizzarra. Ok. Torno. Semplicemente torno. Ok. E arrivato di qua. Dove mi fa cadere? Qui. Bene. Ma comunque là non posso ancora arrivarci. Ho bisogno addirittura di un'altra abilità ancora. No. Ok. Direi che ho fatto tutto. Direi che ho fatto tutto ragazzi. Di più non posso fare secondo me. Io ricordo altre cose con orsacchiotti. Eccetera eccetera. Però l'orsacchiotto. Non mi fa fare nulla. Ah. Non se ne fa. Calo. Aspettate. Allora. Dov'è? Per curiosità eh ragazzi. Si è cambiato qualcosa. Torniamo giganti. E li eccoci. Prendi il frutto. E torna nel mare. Ok. Ora. Vai di qua. Sale. Sale. Entra nell'albero. Qua dove mi porta adesso? Ok. Proprio cambiata la fisionomia dopo che finisce il mondo. Cioè. Cambia proprio la filosofia. La fisionomia. Dopo che finisce il mondo. Allora no ragazzi. Eh. Non posso fare nient'altro. Eh. Dovrei. Dovrei saltare qui sopra. C'è un altro punto di prima. Dove sono arrivato. Che appunto non posso attualmente arrivarci. No. Aspettate. Da qui. Quando mi porta la regina qua in orta. Eh. Così confuso. No. Non posso. Non posso farci ancora nulla ragazzi. No. Direi che posso fermarmi qua. Vediamo solo un attimo. Andando. Di qua. Ok. Ok. Qua non posso fare nulla. Quindi salta. Salta. E salta. Ok. No. Non mi fa saltare lì. Non si può andare. No. No. Ragazzi. No. È inutile. Giardino del te. Vediamo. Si è chiamato qualcosa qui. Non credo. Vediamo. Ok. Espono qui. Quella è una porta. Non mi fa fare nulla. È esponato qualcosa qua dietro. No. Eh no ragazzi. Non ci sono altri ingressi. Eh. Là ci potevo andare. Il quadro è stato aperto. No. Giardino del te. Torno qui. Dovrei poter salire là sopra prima o poi. Ma appunto. Prima o poi. Ho bisogno di un'altra abilità. Eh. Qua ci devo tornare assolutamente. Fatemi fare il giro al ritroso. Fatemi tornare un attimo. Per l'ultima cosa. Poi vi giuro. Vi giuro. E mi giuro a me stesso. Che mi fermerò. Andiamo di qua. Fatemi tornare un attimo il gigante. Ok. Aspettate per un secondo. Vi ricordo che qua cosa si potesse fare. Cioè l'orsacchiotto deve star qui. Vi ricordo questa cosa del mio orsacchiotto che sta qui. Eh. Ragazzi. Proviamo un attimo a aprire qualcosa. Forse utilizzando. Eh. Ehm. Ehm. No. Forse. Eh. Perché l'orsacchiotto deve stare lì? C'ha capito? L'orsacchiotto là. Non ricordo male. Deve. Deve cadere. Ma non posso. Non posso colpirlo. Qua mi ha fatto andare indietro. Eh. Vabbè ragazzi. Dai. Eh. Se dobbiamo. Torniamo indietro. Torniamo indietro. No. Torniamo indietro. Gommichip. Trofeo guadagnato. Benissimo. Questa è delle meraviglie. Come detto ragazzi. Ci torneremo. Ma adesso ragazzi. Ci sarebbe da fare il terzo mondo. O comunque. Il mondo da tre stelle. Però io vorrei andare in oltre e fare prima quello da due. Io vi dico già che. Eh. Tornerò nella città di mezzo. Perché adesso staccherò questa registrazione. E tornerò alla città di mezzo. Per. Per. Per arrivare al livello 20. Sì ragazzi. Eh. Io gioco così. Quindi. Ci tengo a vedere certe cose. Per curiosità. Ci sono le missioni. Ok. Perfetto. Gamificina. Queste sono cose che purtroppo prima o poi. No. Prima o poi dovremmo vedere. Come si fa una gummi ship. Eh. Si fa. Si fa. Mancano dei pezzi. L'assemble ugualmente. Sì. Ok. Ora. Memo. Excalibur. Si. Progettista nato. Ok. Ora ho questa gummi ship. Trasformazione. Warp no. Barriera no. Velocità. Scudo. Uno. Cancella. Non posso eliminare la gummi ship. Gambificina. Progetto. Kingdom. Kingdom. Questa è quella base. Triangolo. Eh. Si. Ok. Volo. Si. Cioè quella non volava. Excalibur. No. No. Scherzavo. Inventario. No. Comificina. No. Beh questa non sarebbe male però. Anche se sono uguali. No. Forse è ancora meglio questa Kingdom. Barriera. Warp. No. Warp. Eh. Ancora meglio la Kingdom che sarebbe Scalibur. Ok. Uscita. No. Per entrare in questo mondo non voglio. Non voglio entrarci mai più ragazzi. Ok ragazzi. Ripartiamo da qui. Ripartiamo dalla città di mezzo. Ovviamente c'è stato un taglio. Eh. Ovviamente sono passati vari giorni. Ha anche iniziato a far freddo. Infatti sto con la felpa. Comunque ragazzi. Cos'è cambiato? Allora devo dirvi effettivamente un po' di cosine. Allora. Mi sono allenato un po'. Sono a livello 25. Eh. Se non ricordo male. L'ultimo. Diciamo. L'ultimo. Salvataggio. Tra virgolette. È stato. Nel mappamondo. Che non era un salvataggio. Comunque l'ultima volta che ci siamo visti eravamo nel mappamondo. E appunto. Sono andato alla città di mezzo. Ho fatto ben 10 livelli ragazzi. Sono a livello 25. E eh. Mi sembra che non ho fatto nulla di che. Eh. Ho preso uno scrigno. Che mi ricordo. Uno scrigno stesso che la città di mezzo. Perché adesso avendo blizzard. Ho potuto fare precisamente questa cosa. Lo scrigno che stava lì. Sono riuscito a prenderlo. Eh. Come si prende? Semplicemente. Di usare blizzard. A tutti e quattro. Ok. Perfetto. E eh. Così facendo. Si sblocca la possibilità di aprire lo scrigno qua. Comunque bisogna utilizzare semplicemente blizzard. Poi. Eh. Mi sembra che non ho fatto nulla. Fatemi vedere ragazzi. Se ho qualcosa di strano. Le cartonine sono sempre 6. Eh. Ovviamente. Buttando giù vari nemici. Ho guadagnato. Schegge. Mitril. Mitril. Che. Vi ho mostrato già la scorsa volta. Come l'ho preso. Sempre quella città. La città di mezzo. E basta ragazzi. Però. Appunto. Eh. So cresciuto con il livello. Soria a livello 25. Paperino al 23. Pippa al 27. Le abilità. Sono queste tutte attive addirittura. Scivolata. Scan. Destrezza. Colpo secco. Contraattacco. Tech plus. La possibilità di avere più punti tech per l'esperienza. Combo plus. Iper guarda. Iper guarda ragazzi. Fondamentale. Perché. Ci possiamo parare. Ok. Aspiratanno. PMA. Che gli permette un recupero più rapido. Nei punti magia. Invece. Pippo. Qui è l'unico che ha. È un po' sfortunato. Ha bisogno di più AP. Comunque. Assimila. Pippo. Frantuma. Queste sono le abilità. Ecco. Faccio sempre così per mostrarvi se è cambiato qualcosa. Però. Appunto ragazzi. Ci siamo. In questa situazione. In questa situazione. In questa situazione.